Ciao a tutti, ciao amiche e cari amici. La campagna elettorale è già cominciata, lo sapete, la sfida che abbiamo di fronte è importante, più importante che mai. Noi abbiamo il dovere di difendere i valori fondanti dell'Unione Europea che sono messi in discussione, che sono messi a repentaglio da una destra estrema, sfrontata, che non si vedeva così dai tempi del fascismo. Sono stati cinque anni intensi e il lavoro che abbiamo incominciato deve essere proseguito, se vogliamo davvero un'Europa che sia più vicina ai cittadini, più vicina alla quotidianità di ciascuno di voi. Però sono tante le cose che abbiamo già raggiunto grazie al nostro impegno, più flessibilità, più investimenti, più diritti dei lavoratori, più tutela dei consumatori e anche un'economia più verde. Tutto ciò però lo sappiamo, non basta. Noi vogliamo di più dall'Europa e la vogliamo assolutamente migliore di così. Vogliamo che si concentri sui problemi reali, sull'occupazione, sugli investimenti, sulla sicurezza. Non possiamo più permetterci un'Unione attenta solo al controllo dei bilanci, solo alla protezione della finanza. Come sapete le campagne elettorali tutte, tutte, sono fatica, sono passione, sono lavoro intenso, ma nessuno può vincere alcuna battaglia da solo. Occorre l'impegno di squadra, il lavoro di tutti, è quello che caratterizza una sfida davvero vincente. Allora io vi chiedo un aiuto, vi chiedo di sostenermi come potete, anche con una donazione, piccola o grande che sia, poco importa, perché la battaglia per l'Europa che stiamo portando avanti è cruciale per il nostro futuro e soprattutto per il futuro dei nostri figli. Allora io per davvero spero che voi condividiate questa preoccupazione e spero quindi di avervi al mio fianco in questa campagna naturalmente, chissà, magari incrociando le dita per i prossimi cinque anni. E allora se volete potete contribuire collegandovi al link qui sotto sulla piattaforma The Rev e fare una vostra donazione, ripeto anche piccola. Sarà comunque un contributo importantissimo per la nostra squadra. Vi ringrazio fin d'ora per il vostro sostegno. Grazie a tutti davvero.